Per il recupero dei cani vaganti in qualsiasi ora del giorno e della notte anche nei giorni festivi è attivo il numero 334 3634 694. Si tratta dell'unico numero attivo a cui fare riferimento e sostituisce quelli che erano stati segnalati in passato. Il numero, come spiega il Comune, è da contattare esclusivamente nell'ambito del servizio di recupero dei cani vaganti sul territorio comunale e non per altre problematiche e informazioni di altro genere. Anche molti cani e gatti intrappolati nell'emergenza alluvione e i volontari si adoperano anche per questo. Io mi occupo personalmente di animali perché ho la delega dell'OIPA. Con gli animali è stato fatto un grandissimo lavoro. Ho solo un appello grande. Gli sfollati ci sono delle persone che piangono perché non possono portare il cagnolino con sé o il gatto con sé, hanno dovuto portarli in canile. L'appello è ovviamente a livello italiano, cioè che le istituzioni si preoccupino anche che ci sono dei legami affettivi importanti. Per cui ci rendiamo conto, stiamo stallando noi gli animali di alcuni sfollati nelle nostre case perché venga garantito, oltre al canile che sta facendo un ottimo lavoro municipale, perché venga garantito alle persone anche che il cane che dorme sempre in casa con loro, il gatto, abbia un po' di continuità. C'è anche il problema di animali randaggi che voi chiedete che vengano comunque condotti al canile. Sì, il sindaco è stato molto chiaro, ha dato delle direttive precise e quindi tutti gli animali randaggi sono stati portati e il direttore sanitario del canile se ne sta prendendo cura. Purtroppo qualcuno non ce l'ha fatta, tanti però sono stati salvati anche dai normali cittadini perché in questo momento siamo tutti volontari e quindi la cosa bella è questa, che anche per gli animali ci sono anche loro e sono parte importante della vita. Bisognerà stare molto attenti anche vicino ai fiumi che non ci siano degli abusivi che continuano a parcheggiare degli animali. Questo purtroppo è una piaga contro cui sia noi che il Comune stiamo combattendo da tanto tempo, ma è una cosa non a livello parmigiano, a livello provinciale, a livello regionale, quindi questa è la situazione.